Ecco, erano amici, fino a questa sera? Pronto, ma Cavalgetto, are you ready? Yes or no? Yes. Ok, in 3, 2, 1, go! Non ho parole, non ho parole, non ho parole signore, ogni volta è un'ammazzata che sfiora il corpo, le braccia, le gambe, la testa, il cervello, altre parti che non vi dico del suo assistente sdraiato a terra, ma lui va avanti come un maglio umano, mai visto, mai visto. Hai visto? Signori, Cavalgetto, sing! Oh, sento gridare le signore del pubblico, ma hanno ben ragione di farlo, guarda, ah, la caviglia! Ah, ce ne sono un paio d'altre in... Ah! 10 secondi In 3, 2, 1, stop! Signori, siamo di fronte a guerrieri che veramente hanno qualcosa di sovraumano. E questa sera ne hanno voluto dare dimostrazione davanti agli occhi di tutti con una scena di vero, di autentico terrore, e non stiamo scherzando. Ora si deve sciacquare gli occhi. Come ci ha detto Frigatti, questa è una pratica che loro fanno sin da bambini in allenamento, ma devo anche dire che visto farlo dal vivo è una cosa tremenda. Adesso si è ripreso. Frigatti, allora riprendiamoci tutti perché ho visto che anche il pubblico...